Musica Ok ragazzi rieccoci in questo nuovo episodio di Transistor Non so se avete visto il buon episodio perchè non l'ho ancora pubblicato E non so quindi cosa ne pensate Però continuo comunque la serie perchè a me piace Quindi mai che ne vada lo caricherò comunque sul mio canale Allora voglio prima fare una cosa Dobbiamo forse Ok infine questa cosa per dettagli Ok merda Eccoli lì Ok E probabilmente dovrò fare in questo modo Ok Bam Perfetto tre andati Ok Allora c'è in questo modo Wow No no ok Indietro Oh due Uno Due E tre Perfetto Vediamo un po' se ce la facciamo E più o meno ce la facciamo Che sarà un po' problematico tutto il resto Però dettagli Oh Perfetto Uno Due Aspettate Aspettate Facciamo così Facciamo direttamente Qua sono quelli pericolosi Perfetto Vediamo un po' Dovremmo fare tipo 100 e 100 Bam Uccisi entrambi Nice Ok Questo E questo Perfetto Andiamo Ok Nice Ok Ok un po' di esperienza raggiunta Ottimo Abbiamo anche il livello 2 In effetti Ok Dobbiamo prendere ancora il livello 1 Però in effetti C'è ancora il primo coso Però dettagli Oh un terminale Ok quello ci interessa Passi pronti Quattro Oh nice Diamo un po' Fame È uno spuntino Mostra offerta Boh Facciamo questa Super deluxe Ok Grazie per la pizza Ok Ok ucciso 1 2 E 3 Nice Dovrò un attimo Aspettare La carica Ok Perfetto Ucciso Nice Ottimo Non dovrei aver preso Troppa roba comunque Perché la pizza Vabbè dettagli Pizza Perché dovrei Volteggiare Così a random Però è bello Oh ecco Allora questo lo prendo Ragazzi Mi serviva Abbiamo detto Rimettere questa Che sembra essere Distrutta Eh ok Perfetto Allora Questa funzione Perché non possiamo Rimetterla Eh a questo punto metto Questa Ok Perfetto Questa sembra essere Distrutta Ah in sovraccarico Ricarica tra un altro Punto d'accesso Quindi Dove dare più punti d'accesso Se si scarica Non possiamo più Utilizzarla Quindi devo fare attenzione A utilizzare Breach Sicuramente Ok Una barcarina Come cosa Ok Ottimo Andiamo alla galleria Direi Un'ottima cosa Perfetto Nice Oh cavolo Eh Allora E la cosa migliare Fare così Perfetto Tre insieme Addirittura ragazzi E basta Adesso Quale posso fare Bam 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 No No Aia Ok Perfetto Quindi Quella prima cosa Si muove A random Molto bene Ok Merda Bridge persa No abbiamo preso un'altra bridge Porca Ok Allora Tra il secondo Dobbiamo ucciderlo un po' Ok Nice 261 241 Merda Attivazione turno di emergenza Nice Ok Dovrei ucciderlo Antoria 241 281 Oh ok Nice Ucciso Non so come ma ragazzi Sto cercando di vincerla Ok Va bene così Ok C'è la c'è la E abbiamo vinto Wow Sembra abbastanza complicato Come cosa Non è semplicissimo Andiamo di vita ragazzi Direi la cosa migliore Aspetta Modifica la realtà Di un nico Che diventa arrivato Dell'utente Oh Bello Mi piace Non funziona Load Abbiamo avuto Ok Nice Eccolo è andata via Perfetto E di qui E ora Abbiamo perso Il load Ragazzi pure Merda Andiamo di qui Vediamo un po' Questo Questo riusciamo a trovare Ok Eccolo qui Il load Punto d'accesso Adesso si cerchia Un kyogen Andiamo un po' Cosa è questo Eh Vedete che Ah ok Possiamo riprendere Per esempio Il crash adesso E non abbiamo più questo Il bridge Quindi Non ci accontentiamo Esplosione Effetto ad aria Oh nice Questo mi piace Selezioniamo la funzione La mettiamo nel 2 Nice Installa Perfetto Dobbiamo fare attenzione A non morire molto spesso Eh 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 Sì Sì Ma è stato questo È giusto Ok Sì Indietro comunque Conferma Perfetto Terminale Abbiamo un terminale Ah giusto Possiamo mangiare qui Vero Ok La strada dell'area al nord Di clone bank E all offline Per indagini O.P.I L'autorità minimizza Le voci con una connessione Tra Scrivete un commento Non credete Una parola Di questa Di questa sudità R Grazie per la risposta Null Ok Interessante Molto complicato Più complicato Di quello che mi aspettassi Diciamo Dove il gioco Oh c'è un altro Punto ragazzi Nice Possiamo quindi Recuperare Una funzione Che dovrebbe essere Riaccessibile Fra un'altra Perfetto Oh Bello No ragazzi Mi piace Oh Ok No no Allora Aspetta un secondo Così Bam 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 E basta Non posso farci nulla Perfetto Più o meno abbiamo fatto Un sacco di danni È troppo veloce Ragazzi Aia Ok Allora Andiamo un secondo Ragazzi Andiamo a far così Dovebbe in teoria Fargli un sacco di male Ok Allora Vediamo un po' Ok Perfetto E Così anche Quindi te lo dovrebbe fare così Vediamo un po' Se lo colpisce No Merda Ok Allora Buttiamolo qua Buttiamolo qua Dovrebbe in teoria Fare un botto di male Solo quello rimane vivo Ok Perfetto Allora Avventuriamo a morire Morire tutti Dovrebbero Ok C'è la C'è la Guarda Ok Devo tanto uccidere quella Che però è molto semplice Da battere Perfetto Nice Ok Ogni volta La cosa diventa Molto difficile È una baseggiata Parliamone Non è tanto semplice Quando pensi Dovrebbe in teoria Bene come funziona Sto coso Ok Perfetto ragazzi Abbiamo ripreso questo qui Abbiamo ripreso E lo useremo al posto di questo Questo è utile Sinceramente Però Non so quanto potrà Essermi D'aiuto Anche questo per esempio Questo è buono per esempio Questa no Non tanto Esplosione Quindi penso che faremo In questo modo Se c'è una funzione La mettiamo al dura Mettiamo Ok Aspettate Aspettate Possiamo utilizzarla In qualche modo Nel senso che Possiamo utilizzarla Come funzione secondaria Perfetto Possiamo fare il potenziamento Addirittura E possiamo per esempio Con No vabbè Direi benissimo Sì sì Ok Ci sto Ci sto Sono carine queste cose Possiamo potenziare Come vogliamo Le nostre cose Per esempio Adesso faccio così Perfetto Lo fa più lontano Nice Cioè è la cosa più giusta Da fare in effetti E poi noi però Dobbiamo distruggere In qualche modo Quindi aspettate Cerchiamo un attimo Di integrare meglio Il tutto Allora torniamo un attimo Indietro Cavolo Devo tornare indietro Non posso Bene Devo un attimo Migliorare il prossimo Il prossimo aggiornamento Ragazzi Ho più che meno Capito come funziona Adesso tutto quanto Ok Devo un attimo Fare in questo modo No È inutile Ok Non posso fare altro Più di così Allora aspettiamo un attimo No Merda Ok Ah merda Non posso entrare Lì dentro Allora posso fare il giro Perfetto Nice Ok abbiamo una cella Ragazzi Ok allora Facciamo in questo modo Perfetto Poi Andiamo di qua Facciamo così Non c'è altro Non c'è altro No Ok 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 perfetto Qui potenziamento Facciamo in questo modo Voglio un attimo Aggiungere un po' tutto Allora facciamo Al contrario Voglio fare Voglio fare Che quando Tira il lancio Tira questo Perfetto Ok Installa funzione Lezione funzione La mettiamo qua La mettiamo Perfetto Installa Ottimo Poi voglio che Questa cosa La faccia come funzione Di questa Ok quindi Come funzione Il potenziamento Lui lancerà Prima Quella cosa blu E poi Metterà la bomba In teoria Quindi E' meglio Da un certo punto di vista Per noi Quindi ok GGWP Questo mi piace Qualcosa Andiamo avanti Nel valle Dell'anfitriato Oh Più o meno Ho capito Come funziona La storia Però qualcosa Di interessante C'è ancora Ok siamo Ragazzi Eccoci Siamo noi Questi Ricordiamocelo Siamo dei cantanti Professionisti In teoria Senza voce Al momento Quindi ok Non ci arriva via Certo Come se ci credo Io E te pare Vau Dove sono gli altri Dicci qualcosa di noi Chi siamo Perché siamo qui Perché dovremmo Aiutarti In qualche modo Ok Che abbiamo scoperto Niente Non ho scoperto niente Ok Oh Nice Ok Ah Potreste di fuoco Per due Ok Non possiamo fuggire Da quest'area Ok Così No no Così ci avviciniamo Sempre più Allora faccio In questo modo Perfetto Vediamo un po' Oh Merde Protetto Da 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 Cos'è Protetto Da Questo Ok Ok Allora Il cosa Che protegge È questo Giusto Ok Faccio in questo modo Perfetto Ok Nice Vediamo due Celle No aspetta Allora facciamo così Basta Stanto questo In teoria Perfetto Poi andiamo qua E qua E qua Facciamo così Perfetto Così possiamo Levarci nei due Di veloce Mentre da torno Ok Nice Ok Dobbiamo un attimo Scappare Nice Ok Vediamo che quasi va bene Bam Ok Nice Per non scappare Velocemente possibile Ok Ok Proteggiamoci Fì che possiamo Nice No Quell'ultima È inutile No È inutile anche questa Allora faccio così Perfetto E Basta Basta Così Ok Ok Pronto Siamo pronti A colpirlo Perfetto Dovevo ucciderlo Ragazzi Uno Due Cavolo Non riesco a fare I doppi attacchi Ragazzi Ok Perfetto Vediamo un po' Se riusciva a fare Qualcosa di bello No Ne abbiamo fatto una mazza Non l'abbiamo colpito Ok Intanto non posso fare I doppi attacchi Ragazzi Nice Quindi cerchiamo di scappare Più che possiamo Ok Nice Dovrei ucciderlo in questo modo Nice Ok Oh Quanti ce ne ha Oh cavolo Questi sono un bel po' Potenti eh Ok Dovrei ucciderli tutti Questi Anche questi Ok Ok Aia Uno Due E tre Nice Dovrei uccidere In teoria tutti Ok Nice Ottimo Devo stanno uccidere questi Abbiamo finito Wow Wow Un po' complicato Come facendo A posto Uccisi Nice Più Empty set Ok Prima arriviamo Adesso Diciamo che già Stanno cavando un po' Meglio Sembra Eh Riusciamo a fare qualcosa Vediamo un po' Nice Qualcosa abbiamo sbloccato Niente Ok Questa cosa ragazzi Voglio utilizzarla Insieme al Qualsiasi cosa possibile Immaginare Per esempio questa Questa è utilissima Quindi faccio così Se non funziona La mettiamo per esempio qua Perfetto Talla potenziamento Perfetto Quindi in teoria dovrei fare più male Stordimento addirittura faccio Nice Mi piace il fatto del strordimento Volteggiamo così bello Ne vogliamo qui Tan tan Ok Diamo un po' Niente ancora Empty set Ok Oh È un terminale ragazzi Spettacolo del mese prossimo Siamo a round finale Per la scelta Dalle attrazioni finali Nel mese prossimo Nel locale pubblico Numero uno Di Cloud Bank Display Le situazioni di Red Contro la band del momento I Fax Smile Chi vincerà Sarete voi a decidere Red Sicuramente Ok Grazie per il voto Risultati Red Z80% Fax Smile Faximile Ah Faximile Ok ok No Fax Smile Ok Come torniamo indietro No non voglio tornare indietro Voglio fare Ah vabbè Si prenda qua Me ne devo andare Per dettagli Ok Let's go Punz 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 La prima volta Su questo palco Era come se Tu fossi Ah tu ti fossero Positità Stiamo cantando Ragazzi Nice Inutile Perché tipo Non canteremo mai più Ieri notte Ah ieri notte Ecco Ragazzi la soundtrack di questo Gioco E' troppo bella Fantastica davvero Amo questa casa Ed esige indie Che fantastica Sta a fare dei giochi perfetti La mia spada Cosa c'entra la mia spada Mi hanno lanciato la spada contro Mi ha salvato Uh Nice Cosa Dove Come no Ehi red Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Tipo Tipo spastico Nice Ok ragazzi La seconda parte Finisce qui Spero che anche questa parte Vi sia piaciuta A me sta sempre Più di più Prendendo questo gioco Che sembra fantastico Per la sua Atmosfera Anche per la sua soundtrack E' fantastico Ragazzi E' stupendo Quindi ggwp Per creatori ggwp Ehi tu Si dico proprio te Sei nuovo da queste parti Si Allora mi presento Io sono Lisse E questo è il mio canale Qui potete trovare video di minecraft Ma non solo Il canale è anche pieno Di video di gameplay Quindi Che aspetti Vi non so E farlo più da vicino Persone o animali O bambini Non sono stati sfruttati Per realizzazione Di questo video